La seconda partita è stata tutta un'altra cosa, quindi quello che non siamo riusciti a fare ieri siamo riusciti a farlo oggi, siamo stati molto più determinati in difesa, molto più aggressivi, anche se non ho commesso degli errori, comunque il risultato parla chiaro, abbiamo subito 14 retti o 12 meno di ieri, comunque questo è quello che volevo, i ragazzi hanno capito e ce l'hanno fatto, anche in attacco siamo stati per un lungo periodo di partita molto disciplinati, poi con loro cambi di difesa ci hanno messo un po' in difficoltà, non siamo riusciti a resistere, abbiamo portato la vittoria a casa, sono partite molto importanti per questi ragazzi e speriamo di continuare così.